E' stato il presidente merito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo a spiegare le ragioni del no in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Lo ha fatto nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza presso la sede della CGL di Arezzo. Le riforme costituzionali sono ottime cose, se buone, vanno viste dentro, cosa c'è scritto dentro. E purtroppo in questa riforma c'è moltissime cose, si tenta una grossissima riforma che tocca in realtà l'ordinamento del Parlamento da una parte e il rapporto tra regioni, Stato ed enti locali e in tutti e due i campi si introducono delle novità molto negative, soprattutto dei modelli non funzionali che restringono in particolare l'elettorato dei cittadini che sarebbe escluso da nominare i senatori da una parte, dall'altra senza creare un senato delle regioni davvero e al tempo stesso le regioni, o meglio 15 regioni su 20, vengono ridotte al lumicino, vengono emarginate e così anche gli enti locali e mentre invece si mantengono in piedi tutti i privilegi delle cinque regioni speciali. Ora tutto questo peggiora la qualità della nostra democrazia, non certo ne esalta le capacità d'azione e di presenza. Sono intervenuti nel corso dell'iniziativa anche l'avvocato David Faltoni e il deputato Marco Baldassarre. Se dovesse vincere il Sici troveremo che nell'ipotesi che una maggioranza di un 20% della popolazione è il controllo totale del Parlamento e non solo, ma nomina gli organi di garanzia anche alla Corte Costituzionale, quindi imbarba a tutto. Tra le principali cose che non ci piacciono di questa riforma sicuramente il fatto di andare a togliere questa solennità popolare e la possibilità di eleggere i senatori ma che verranno scelte appunto dai consigli regionali ai quali verranno date anche l'immunità, cosa che non hanno quando vengono eletti.